ho trovato questo gratta e vinci e adesso lo grattiamo, vediamo un po' quello che ci dice questo è numeri fortunati, qui bisogna grattare i numeri vincenti, questi qua e poi in base alla giocata solo i numeri adesso corrispondenti vanno grattati su ogni giocata sono 2, 4, 5 giocate e se i numeri corrispondono c'è il premio, vediamo come è l'andazzo allora intanto grattiamo questo, questo è un 41, 41 ce l'abbiamo qui, eccolo qua poi abbiamo un 51, poi abbiamo un 48, un 35, 80, 18, 22 e 64 allora vediamo un po', 41 l'abbiamo grattato, eccolo qua ed è uno, poi abbiamo il 51, sta a quest'altra giocata poi abbiamo 48, 48 non ce l'abbiamo, il 35, 35 non l'abbiamo, nemmeno questo 80, l'abbiamo qui, eccolo qua, 80, poi 18, 18 niente, il 22, 22, 22 ce l'abbiamo qui sotto eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, e poi abbiamo il 64, 64 non ce l'abbiamo, ok, proseguiamo qui abbiamo un 65, 65 non ce l'abbiamo, poi abbiamo un 69, ce l'abbiamo qui, eccolo qua e sono 3 su questa giocata, poi abbiamo un bel 45, che non è bello per niente, perché non ce l'abbiamo, poi andiamo avanti, abbiamo un 62, ce l'abbiamo qui, e qui ne mancherebbe uno per vincere il premio, vediamo, proseguiamo, ci vorrebbe un bel 78 adesso per vincere, ma questo è 21, il 21 non ce l'abbiamo, poi abbiamo un 11, 11, 11, niente, eh, la vedo dura, questo è un 74, l'abbiamo qui, qui non serve a niente, proprio, è inutile questo 74, un bel 78, dai, esci fuori 78, niente, 67, eccolo qua, niente, ne mancano uno, un 78 e un 60, e avremmo vinto, scartiamo giusto questi, eh, 250 euro, desti periodi parebbero comodo, invece qui avremmo vinto 25 euro, invece noi ci siamo divertiti, ma non abbiamo vinto niente, ciao ciao, alla prossima!